Buongiorno a tutti, io sono Vanessa Muzzone, ci conosciamo con la maggior parte di voi, quindi non vi nego la mia emozione quest'oggi a parlare da qui. Emozione perché io fino al precedente congresso non facevo ancora attività sindacale, questo è il mio primo congresso. Fino a quattro anni fa ero una semplice iscritta della Wilka, lo sono sempre stata iscritta alla Wilka dal primo giorno di banca, lo racconto spesso durante le nostre riunioni, io il giorno stesso in cui ho firmato il contratto con il Monte dei Paschi di Siena ho firmato la delega alla Wilka, perché nella Wilka ho trovato serietà, affidabilità e fin da subito mi sono riconosciuta nei valori che i dirigenti sindacali della Wilka esprimevano. Ma questo non mi bastava, volevo essere anch'io protagonista. Io vengo da una banca, lo raccontava prima la collega Siria Boccalini, che è il Monte dei Paschi di Siena, dove negli ultimi anni ne abbiamo viste davvero di cotte e di crude, quindi è nata in me la necessità di impegnarmi attivamente nell'attività sindacale. Questo accadeva circa tre anni e mezzo fa e da allora la mia vita è cambiata radicalmente. Tutti voi sapete che io faccio parte insieme a Gino San Marco della Commissione Nazionale Proseditismo, una sfida questa fortemente voluta da Massimo all'interno della nostra organizzazione. Una sfida che devo dire la possiamo ritenere riuscita, ma che deve assolutamente continuare nel tempo. Si è parlato ieri, lo diceva anche Massimo l'altro giorno, che il sindacato non morirà mai, tantomeno nel nostro settore, ma sicuramente si deve adeguare ai tempi che cambiano, ad un mondo del lavoro che cambia. Noi come Wilka siamo un sindacato molto all'avanguardia da questo punto di vista e la nascita della Commissione Nazionale Proseditismo lo dimostra. A questa abbiamo affiancato un'attività rivolta invece ai più giovani, perché anche questo se noi vogliamo continuità nella nostra attività sindacale dobbiamo sicuramente rivolgersi alle brade più giovani, che sono quelle che forse più di tutti stanno pagando il prezzo di quello che sta accadendo negli nostri istituti di credito. E nasce quindi il progetto futuro, che è partito già in alcune regioni, Lazio raccontava prima a Siria le loro attività negli ultimi anni, in Lombardia, in Piemonte, in Sicilia. Vogliamo dar voce ai più giovani, ai nostri dirigenti sindacali più giovani, perché rappresentano il futuro dell'organizzazione. Questo non vuol dire ovviamente non togliere spazio a chi invece il sindacato lo fa da tempo, perché noi giovani abbiamo grande bisogno di essere affiancati da chi ci deve insegnare questo difficile mestiere. Quindi spazio ai giovani, nuovi dirigenti sindacali, ma coadiuvati e supportati dai dirigenti sindacali che finora hanno reso grande la nostra organizzazione. Per questo voglio ringraziare Massimo per la grande sensibilità che ha avuto verso queste tematiche e verso i giovani. Voglio ringraziare Gino San Marco, perché con la sua caparbietà sta portando avanti delle idee innovative, diverse, di cui però il sindacato ha bisogno, se vogliamo che il sindacato continui ad esistere. Detto questo, voglio fare un passaggio sulla Sicilia, la regione da cui io provengo. Una regione dove l'attività sindacale, come sapete tutti, è molto attiva. Abbiamo un bel gruppo di dirigenti sindacali. Questo è frutto del grande lavoro che ha fatto prima Gino con tutta la sua squadra e che adesso sta continuando Giuseppe Gargano. La Sicilia è la dimostrazione di come, attraverso il lavoro di squadra, ne parlava qualcuno prima, si possano ottenere dei grandi risultati. Noi siamo una regione dove non si vede un ne ho assunto dei tempi in cui sono entrata in banca io ed è passato già qualche anno, eppure le assunzioni si fanno, quasi 18.000 attraverso il Fondo per l'Occupazione negli ultimi sei anni. Quindi questo ci fa capire come comunque la forza di volontà, il grande lavoro, il lavoro di squadra, nonostante le difficoltà che la nostra regione ha, possano portare a dei grandi risultati. Abbiamo molti dirigenzi sindacali giovani in Sicilia, abbiamo una squadra che lavora attivamente nel proselitismo e i risultati ci danno ragione. Quindi, io sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra perché ho imparato e continuo a imparare ogni giorno tantissimo dalle persone con cui lavoro. Da qualche mese mi è stato affidato un nuovo incarico in Sicilia che è quello del responsabile delle pari opportunità. Questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio ma mi fa sentire anche la grande responsabilità di questo ruolo. Perché se è vero, sono d'accordo con la collega che mi ha preceduto, che forse non è neanche corretto parlare oggi di pari opportunità perché comunque noi donne siamo già alla pari all'interno delle aziende e all'interno del sindacato, la nostra sigla nella dimostrazione, però mi rendo conto che soprattutto nelle politiche sociali, nel welfare c'è ancora tanto lavoro da fare. Quindi ho accettato questo incarico e questa ulteriore sfida che mi è stata lanciata e spero insomma di dare il mio importante contributo. Altra sfida che stiamo portando avanti con la Wilka Sicilia, perché noi come sapete non ci fermiamo mai, siamo sempre in continuo fermento, è quella del giornale online. Stiamo partendo con questa iniziativa che vedrà impegnati alcuni dei nostri dirigenti sindacali in questa nuova attività. Lo sappiamo benissimo ormai l'importanza della comunicazione, un'organizzazione sociale esiste, si sa raccontare ciò che è e noi diciamo che come Wilka in questo siamo diciamo primi in assoluto. Io seguo un po' lo scenario sindacale italiano e noi abbiamo nulla da invidare a nessuno, né come Wilka nazionale né neanche noi come Wilka Sicilia ci facciamo mancare nulla. Io non voglio dilungarmi perché mi piacciono i tempi europei per quel che riguarda gli interventi, ringrazio tutti, ringrazio la segreteria nazionale per quello che mi ha dato in questi quattro anni. Pazienza, ascolta, abbiamo lavorato insieme con molti di voi e voglio davvero darvi un grande ringraziamento. Mi avete insegnato tanto, spero che continuerete ad avere la pazienza che avete avuto finora nell'ascoltarmi, nel dedicarmi il vostro tempo e grazie a tutti quanti. Buon congresso. Grazie.